I carabinieri hanno passato al setaccio i tabulati di decine di schede telefoniche, vagliando ore di conversazione al computer e mettendo assieme un copioso fascicolo di foto che le giovani e giovanissime vittime gli avevano inviato tra il 2010 e il 2012. Per Giuseppe Mutton, 38enne di paese già arrestato lo scorso anno dalla polizia, ora arriva una pesantissima condanna. Con sentenza passata in giudicato, il soggetto tratto in arresto ieri dalla compagnia carabiniera di Montebellona ha subito una condanna di 9 anni e 11 giorni per la detenzione in materiale pedopornografico. Sono almeno 10, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le giovani vittime dell'uomo, molte delle quali minorenni, ragazzine che finivano per inviargli foto pedopornografiche. L'approccio avveniva sempre attraverso profili Facebook fasulli, nei quali usava le foto di giovani e i tanti. Poi, quando instaurava un contatto con le vittime, spesso arrivava a chiedere loro degli incontri o comunque di avere altre foto e qualora non avessero accettato, spiegava di essere un carabiniere pronto a intercettare i loro telefoni. I dettagli che abbiamo acquisito tramite l'indagine sono piuttosto scioccanti. Lui aveva lo stesso modus operandi con tutte, c'era una prima fase di corteggiamento. Poi, una volta carpita la fiducia di queste ragazze e soprattutto le ragazze dichiaravano di essersi proprio invaghite di quest'uomo, iniziava con le richieste insistenti a contenuto e a sfondo sessuale. A portare alla luce la vicenda una giovane all'epoca dei fatti minorenne. La ragazza è arrivata a denunciare l'uomo per molestie telefoniche. La teneva in uno stato di sudditanza psicologica, spingendola a vivere accanto al telefono cellulare. Durante le perquisizioni ordinate dalle distrettuali di Venezia, nell'abitazione dell'uomo, sono spuntate le fotografie e le schede dei telefoni. L'appello che rivolgiamo ai genitori, proprio prendendo spunto da questa indagine, è di essere molto attenti e molto vigili ai siti che i figli frequentano, navigando in internet. E questo non solo per le ragazzine, ma anche per i maschietti, perché questi pericoli sono in agguato per entrambi i sessi.